L'idea è sbarazzarmi di lei e di Andrea in un colpo solo. Che c'è? Noi avremo campo libero, questo è quello che conta. C'è qualcosa che non mi torna. È come se non fossi la stessa persona che conoscevo. So quello che faccio. Allora dimmi tutto quello che sei. In prima assoluta... Ti amo. La nostra è stata una storia importante, lo so io, lo sei tu. Tu potresti veramente fare a meno di lei? Dimmi che mi hai perdonata. Solo per amore, destini incrociati. Mercoledì alle 21.10, canale 5.